La grave carenza di personale sanitario in determinati presidi ospedalieri situati nelle aree interne del territorio regionale mette a rischio chiusura alcuni reparti, privando numerose famiglie di determinati e indispensabili servizi sanitari. Il lungo commissariamento della sanità in Campania ha bloccato le assunzioni del personale sanitario, danneggiando inevitabilmente le strutture ospedaliere di periferia. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, nel suo intervento durante il Question Time in Consiglio regionale. In Italia abbiamo un problema importante e significativo per quanto riguarda il tema del personale sanitario. In particolare, proprio dalle ultime estime, abbiamo visto che mancano al sistema sanitario nazionale circa 17.000 medici e ben 350.000 infermieri per poter andare a colmare quelle carenze che ci sono. Va precisato e va premesso che nei 20 miliardi, per quanto riguarda la spesa nel settore della sanità del PNRR, ovviamente non sono previste le spese che riguardano il personale. Tale problematica ovviamente c'è anche nella regione Campania. Ovviamente dobbiamo ricordare che la Campania viene da lunghi anni di commissariamento e questo commissariamento ha comportato proprio nella sanità il blocco del turnover, quindi il blocco della possibilità di mettere nuove figure, nuovo personale sanitario all'interno delle nostre strutture ospedaliere e quindi determinando un problema di non poco conto, che la regione Campania un po' alla volta adesso sta cercando ovviamente di sopperire, accelerando anche con le procedure concorsuali. C'è un problema molto serio, molto importante che riguarda però gli ospedali, i presidi ospedalieri delle aree interne e delle aree di periferia del nostro paese, perché purtroppo sono quelle meno appetite da parte del personale sanitario, perché ci sono addirittura dei reparti che vengono portati avanti con uno o due medici, perché il rischio di chiusura di molte di queste strutture e di molti reparti è particolarmente evidente. C'è un problema anche riguardante ovviamente anche il fatto che quando si fanno degli avvisi pubblici si esaurisce la graduatoria degli avvisi pubblici, ma purtroppo nessuno è disponibile ad andare negli ospedali di periferia, quindi non voglio inoltre sottolineare l'importanza invece che rivestono gli ospedali e le strutture sanitarie di periferia delle aree interne, perché rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie, andando a soddisfare una serie di esigenze sanitarie di particolare importanza. Per sopperire a tale carenza molte volte si ricorre al sistema dell'Alpi, l'assistenza libero-professionale intramuraria, chiaramente che determina che cosa? Due elementi negativi. Il primo non determina la continuità delle cure, perché ovviamente si tratta di una prestazione isolata che non dà la possibilità di poter seguire anche i pazienti nel tempo. Il secondo elemento è negativo anche per la nostra regione in quanto comporta un aggravio di spese notevoli. Io voglio ricordare che ogni turno dell'Alpi costa alla regione Campania non meno di 800 euro e chiaramente questo è un danno anche da un punto di vista sanitario, però il meccanismo dell'Alpi è l'unico oggi esistente per evitare la chiusura di numerosi reparti. Allora io nell'interrogazione chiedo quali sono le iniziative che la Giunta intende intraprendere proprio per cercare di sopperire a questa grave carenza di personale sanitario, soprattutto nelle strutture di periferia e l'altro elemento importante, magari perché no, se c'è la possibilità di valutare, un po' così come succede per altre categorie, penso a tutto il comparto della giustizia dove i magistrati che vanno nei tribunali di periferia hanno una serie di incentivi, così come succede anche nel mondo della scuola, molte volte i docenti delle scuole primarie che vanno nelle cosiddette scuole di montagna hanno degli incentivi. Valutare delle forme anche di incentivo per poter rendere un po' più appetibili le strutture sanitarie di periferia e per poter quindi andare a colmare quella grave carenza di personale sanitario che oggi mette seriamente a rischio chiusura molti reparti e anche molti ospedali in alcuni casi.